Il terzo millennio ci ha regalato un'esigenza fondamentale per migliorare la qualità della nostra vita ed è quello di imparare a comunicare in maniera matura per poter migliorare la relazione con gli altri e quella con noi stessi. I media, internet, tutti i social network svelano un mistero. Per poter stare bene bisogna comunicare bene e Damanhur, che ha scelto una formula di convivenza comunitaria, in 40 anni di studio e ricerca ha messo a punto strategie eccezionali per poter ottenere dei risultati in breve tempo. Siamo partiti dallo studio della suggestione, l'ipnosi, un termine desueto che oggi è diventato modello relazionale, struttura formativa, arte della comunicazione. Abbiamo condensato in sei weekend più due di approfondimento oppure in due settimane intensive la possibilità di studiare come migliorare totalmente se stessi, come imparare ad esprimere i propri sentimenti, come in qualche modo riuscire prima ad entrare in una condizione di benessere e poi regalarla agli altri, semplicemente sapendo comunicare bene ciò che sei. Se vuoi sperimentarlo, noi possiamo offrirti un modello teorico e pratico che ti consentirà di fare delle esperienze reali, oggettive ed in poche settimane di trasformare te stesso verso la felicità.